Cristo regni. Ecco, allora vi invito ad ascoltare questo spezzone di un video con cui Dottor Cionci mi ha attaccato e poi vi invito ad ascoltare dopo la mia risposta. Ma innanzitutto facciamo una preghiera perché la verità si manifesti sempre più e gli errori di questo Dottor Cionci, di tutti quelli che sono intorno a lui e lo sostengono, possano finalmente essere smascherati in maniera completa e totale e tutti quelli che lo seguono possano ritornare veramente a camminare sulla via della vera dottrina di Cristo, sulla via della piena verità. Ave Maria, grazie appena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventis tu Iesus, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ed in ora mortis nostre, Amen. Poi a proposito di Fandonia, lei dice che Papa Benedetto ha detto che il Papa è Francesco. Questa è una Fandonia, questa è una Fandonia perché Papa Benedetto non ha mai detto il Papa è uno ed è Francesco. Lo ha chiamato Papa Francesco, lo ha chiamato Santo Padre come avrebbe chiamato un patriarca di una chiesa scismatica qualsiasi, perché se viene Papa Teodoro a Roma, che è il patriarca copto ortodosso che è scismatico, certo che lo devi chiamare Papa Teodoro, non è che lo puoi chiamare dottore, no? È ovvio, perché se lui viene chiamato in quel modo, lo devi chiamare secondo il titolo che gli viene attribuito. Tra l'altro, come lei ricorda, Papa Benedetto ha promesso obbedienza al suo successore, certo ha promesso obbedienza al suo persecutore, è per quello che non ha mai protestato durante la sua sede impedita e per quello che si è espresso in codice Ratzinger, cioè con questo modo sottile. Avete sentito quello che dice dottor Cionci? Dice che sono Fandonie quelle che io presento quando presento i testi di Benedetto stesso, il quale chiama Francesco Papa, poi lo chiama suo successore, lo chiama il nuovo Papa, lo chiama Santo Padre. Allora appunto dice Cionci Benedetto chiama Francesco Papa come chiamerebbe un capo di una chiesa scismatica, ma quello che lei dice dottor Cionci è, come abbiamo detto in altri video, è confutato da tutto il mondo. Perché? Perché tutto il mondo sa che Benedetto XVI si è dimesso e che il Papa dopo di lui è stato Francesco. Tutto il mondo lo sa, tutti quelli che stavano intorno a lui lo sanno, l'hanno detto con chiarezza particolare Genswein e poi anche Xuereb, quindi tutti lo sanno, ma tutto il mondo lo sa, tutti gli esperti lo sanno, tutti gli amici di Benedetto XVI lo sanno, quindi quello che lei dice, come ho già ripetuto in altri video, è appunto come quel ragazzo che diceva no la Divina Commedia è stata scritta da Garibaldi, non lo sapete è stata scritta da Garibaldi. Lei appunto insiste su una cosa che è assurda, perché Benedetto XVI non soltanto ha chiamato Papa Francesco, ma gli ha dato piena e totale obbedienza e a nessun leader scismatico Papa Benedetto ha mai dato obbedienza e mai nessun Papa mi consta che abbia mai dato obbedienza a un leader scismatico, perché sennò diventerebbe scismatico il Papa. E si noti bene, la possibilità che un Papa sia scismatico non è che me la sono inventata io, è contemplata da i grandi teologi, che lei non ha consultato evidentemente quando ha detto queste cose. Quindi Papa Francesco, cioè Papa Benedetto, se fosse vero Papa, primo non avrebbe mai fatto obbedienza a un leader scismatico, assolutamente, poi non avrebbe mai chiamato successore, suo successore un leader scismatico, perché appunto sarebbe vuole dire che è il vero, sarebbe indicare che quello è il vero leader. E poi non lo chiamerebbe mai nuovo Papa, ovviamente riferendosi, come tutti hanno capito, al Papa della Chiesa di Roma. Inoltre, ne faccio presente che Benedetto XVI ha incontrato tante volte Francesco e ha concelebrato con lui. Quindi il suo discorso crolla miseramente, perché mai un Papa concelebra con un leader scismatico. Le ripeto, lei è incompetente. Se Benedetto si fosse comportato come lei dice, adesso starebbe all'inferno, perché sarebbe un traditore. Lei purtroppo mostra una incompetenza colossale a livello anche di dottrina morale. Vorrei capire qual è stato il suo consigliere a livello di dottrina morale, perché l'ha consigliata malissimo se c'è, e se no è lei che è proprio totalmente deviato in teologia morale. Infatti quando dice no, ma è come lei dice, no? Benedetto chiama Papa Francesco, che sarebbe secondo lei scismatico, e dovrebbe essere nella mente di Papa Benedetto scismatico, lo chiama appunto suo successore, gli dà obbedienza, eccetera. Non esistono testi in cui un Papa, particolarmente Papa Benedetto, dica ad un leader scismatico, io obbedisco totalmente a quello che lei dice, ma stiamo scherzando. Né mai lo chiama suo successore, né nuovo Papa. Quindi sono assurdità quelle che lei dice. Lei racconta colossali falsità che diffamano Papa Benedetto. Ripeto, se Papa Benedetto avesse fatto quello che dice lei, adesso starebbe all'inferno. È da vergognarsi quello che lei dice. E poi dice che io dico fandonie, ma è lei che ne dice, dico colossali di fandonie, ma non soltanto fandonie. Queste sono affermazioni che di per sé sono diffamatorie di Papa Benedetto. Lei è confutato da tutto il mondo, sta reggendo queste falsità colossali che si è inventato e che non hanno nessun fondamento. Quindi, cari fratelli e sorelle, concludiamo questo video pregando perché la verità venga sempre più fuori e tutte le falsità di cionci siano sempre più smascherate. E finalmente tanta gente capisca che sono appunto falsità colossale, smetta di seguire questo signore con gli errori che diffonde e con quelli che con lui reggono questa storia che è una colossale fiaba, una colossale favola, confutata da tutti. E ripeto, gli storici non accettano quello che dice quest'uomo, cionci. I teologi su queste affermazioni di cionci sono inaccettabili. Se ci fosse qualche teologo che accettasse questo sarebbe di pessima dottrina, anzi sarebbe praticamente contraria alla dottrina della Chiesa cattolica. E anche i canonisti bocciano chiaramente quello che dice quest'uomo. Quindi spero che sempre più la gente che segue questo signore si renda conto dell'abisso di perversione dottrinale in cui quest'uomo è precipitato. Cristo regni. Concludiamo con una preghiera a Madonna proprio perché dal cielo ottenga la conversione di questo signore e di tutti quelli che lo seguono alla verità vera, non alle falsità del codice Ratzinger. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui murieribus, benedictus fructus ventis tui Iesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Grazie a tutti.